Da Stellantis EU Torino vendere la tua auto non è mai stato così facile. Fissa il tuo appuntamento con un nostro consulente specializzato e porta la tua auto nei nostri showroom per la valutazione gratuita. Supervalutiamo il tuo usato senza vincolo di riacquisto e concludiamo la pratica in giornata senza lunghi attese. Approfitta della supervalutazione dell'usato di Stellantis EU Torino. Ti aspettiamo in corso Giulio Cesare 360, Piazza Riccardo Cattaneo 9, in via Ermanno Fenoglietti 20. Grazie per la visione!